Circa 250 gli espositori che tra una settimana daranno forma alla Fiera dell'Agricoltura. Alcuni espositori hanno dovuto rinunciare, in particolare quelli del settore metalmeccanico, per le difficoltà nel reperire le materie prime, ma Lanciano Fiera torna comunque ad animarsi come prima della pandemia. Ci auguriamo tutti quanti che con le dinamiche dell'ente Fiera riprendano anche le dinamiche importanti delle imprese locali, della produzione, della partecipazione delle persone a questo evento. Questa sarà la sessantesima edizione della Fiera, l'ultima conferrante in veste di Presidente dell'ente e infatti al termine di dieci anni alla guida di Lanciano Fiera. Ho avuto delle soddisfazioni importanti perché la Fiera ha avuto delle soddisfazioni importanti. Siamo riusciti a organizzare un sacco di manifestazioni, un numero indescrivibile sia per conto proprio che per conto terzi. Soprattutto abbiamo portato avanti l'idea che la Fiera sia al servizio di tutti, non è solo un incontro tra economico o finanziario, tra domanda e offerta, ma è stata sempre a disposizione come servizio per la comunità. Addetti ai lavori della filiera dell'agricoltura, ma non solo, arriveranno da tutta Italia. L'appuntamento è per il 20, il 21 e il 22 maggio. È possibile acquistare i biglietti anche online e con una riduzione del prezzo, così da evitare assembramenti all'entrata. Oggi la regione Abruzzo ha un'economia molto variegata, a qualcuno sfugge che siamo la prima realtà industriale del mezzogiorno, ma abbiamo un comparto agricolo soprattutto legato al vitivinicolo importante, così come quello del turismo, e tutte queste realtà riescono a condividere e a convivere insieme in maniera egregia. Grazie.